Qui siamo in una delle più grandi cliniche estetiche di Tirana perché dopo l'esplosione del turismo dentale ora l'Albania è lanciata nel business della chirurgia e della medicina estetica. Qua sono le camere dove fanno tutte le medicazioni post-operatorie. Vengono da tutta l'Italia i pazienti sia dal sud alla Sicilia, Isole, Sardegna, più al nord a Bolzano. In più vengono anche i pazienti europei, tipo inglesi, tedeschi, francesi, spagnoli e anche americani. Qual è l'intervento più richiesto? È la rinoplastica, un intervento che occupa un 70% del nostro fatturato. Anche qui il listino prezzi rispetto all'Italia è scontatissimo. Facciamo dei pacchetti in modo tale che il paziente si trova accudito e coccolato. Le tariffe sono in media la metà di quelle italiane con il pacchetto completo. Prendiamo l'esempio della rinoplastica, che è l'intervento più richiesto. Varia di solito da 3.000 a 3.500 euro il pacchetto completo. Il pacchetto vuol dire viaggio, alloggio? Viaggio, alloggio, accomodamento per due persone, perché di solito vengono anche con accompagnatori. Grazie.